Come ogni estate, purtroppo puntuali sono tornati i furti sul litorale di Agropoli. Ad essere prese di mira tra il lungomare San Marco e la baia di Trentova sono le auto parcheggiate e nei ultimi giorni aumentano anche le segnalazioni. I malviventi infatti utilizzano sempre lo stesso modus operanti, rompono il finestrino e prendono tutto ciò che trovano all'interno dell'abitacolo. Ad un turista addirittura è stato sottratto un borsello con all'interno dei medicinali che avrebbe dovuto necessariamente assumere. Dispiaciuto per questo fenomeno, come ha denunciato anche sui social, il primo cittadino di Agropoli, Roberto Mutalipassi. È un danno di immagini alla città. Sono episodi che, come ho sottolineato, non sono soltanto di quest'anno. È un problema purtroppo atavico, è un problema che copisce tutta la fascia costiera da capaccio ad andare giù. Fortunatamente da quelli che sono i resocondi che mi danno le forze dell'ordine, a cominciare dal comando quadabiniere e dalla locale forza di polizia municipale, sono degli episodi in diminuzione. Il sindaco ha poi assicurato il massimo impegno per rendere il territorio più sicuro, richiedendo anche alle forze dell'ordine dei servizi e controlli mirati. Punteremo sicuramente sull'implementazione del sistema di videosorveglianza su tutto il territorio comunale. però sicuramente una maggiore presenza delle forze dell'ordine e sicuramente trovare altri mezzi alternativi che possono garantire ed evitare che questi episodi si ripetano.